Mentre ti facevi la doccia, forse questa è la più grande soddisfazione di oggi al di là della vittoria? Guarda, i ragazzi hanno risposto sul campo perché è chiaro che oggi era una giornata importantissima per noi, dovevamo rispondere a quest'ultimo periodo che sicuramente non era positivo. Venivamo da lunedì il mister, il direttore, mercoledì è stata una partita brutta, bruttissima, dovevamo rispondere, ci siamo messi lì, abbiamo lavorato e alla fine abbiamo fatto secondo me un'ottima prestazione contro una buonissima squadra. Ultima per me, poi lascio la parola e mi taccio. Mister, per definire questa Ischia la definisco con una parola che potrebbe essere brutta, ma spero che lei l'accetti, capisca il senso molto positivo. Un'Ischia grezza, nel senso sporca, che ha voluto la vittoria, che ha vinto qualche contrasto in più in mezzo al campo, che ha vinto una seconda palla, che anche in dieci uomini non si è fermata e è andata in attacco, quasi senza sosta, una faccia nuova. Più che una faccia nuova, secondo me, la faccia dell'Ischia quella deve essere. Noi è stato un periodo, ripeto, complicato e abbiamo messo le cose più semplici possibili, perché, come ho detto anche nell'ultima conferenza, questa squadra ha bisogno di semplicità, di tranquillità un attimino. Non è semplice, non abbiamo risolto tutti quanti i nostri problemi, perché questa squadra ha bisogno di lavorare sempre a 300 all'ora e quando abbassiamo un pochino vengono fuori i limiti che hanno tutte quante le squadre, quindi noi dobbiamo sempre andare oltre i nostri limiti. Dopo, se non mi sbaglio, tre minuti oggi andiamo sotto. Probabilmente non è semplice poi rialzarsi, ma la squadra ha ripreso il pallone dalla porta, si è messa lì, ha cominciato a giocare, ha iniziato a fare la sua partita. Dura, tosta, sì, forse anche brutta e sporca, ma in questo momento l'Ischia deve vincere le partite. Se questo qua è il modo per vincere, noi ci dobbiamo adattare in qualsiasi modo per vincere. Ecco, dopo tutta quella settimana che l'ora ha descritta benissimo, dopo la vittoria sull'Isola che mancava da quella partita con lo Stiamare che si ricorda dell'anno scorso, dopo anche questo inizio di partita che dopo tre minuti l'Ischia si trova sotto, per qualsiasi altra squadra questo sarebbe stato il momento più complicato e il K.O. definitivo. Ecco, quanto è importante anche questa reazione da parte dei ragazzi a tutto il periodo che c'è stato e soprattutto anche uno svantaggio che arriva poi a freddo. Sì, ripeto, contro un'ottima squadra, allenata molto bene con dei vici più importanti. Ripeto, tante squadre, se non tutte, dopo il periodo e dopo il gol e dopo tre minuti si potevano abbattere. Noi non è così, non è stato così, abbiamo avuto un'ottima reazione, adesso però dobbiamo prendere slancio da questo perché è stata fatta la prestazione, è importante, con l'atteggiamento giusto che per noi è fondamentale. È la base per poi dopo poter giocare con tutti i vari sistemi di gioco, ma noi l'atteggiamento non lo possiamo sbagliare. Oggi sotto l'abbiamo rimesso a posto, poi in dieci per un'ingenuità che non ci possiamo permettere e così come Fabio ci ha dato il vantaggio, Fabio è un giocatore esperto, un giocatore importante, non dobbiamo cadere in queste cose. Però, ripeto, stasera ci godiamo questa partita e da domani si andremo a pensare subito alla prossima. ecco, anche il carattere delle persone che sono entrate in campo, la Cielo Fadulano è entrata nel secondo tempo, Trofani, potrei citare tutti gli altri, ma come citare per tutta la squadra. Ecco, quanta voglia che oggi veniva rischiare, veramente tanta quella che si è sembrata a noi. Chiarello ha vinto tutti i duelli, per citarne alcuni, però per dire tutti quanti hanno messo una voglia in campo veramente impressionante. L'atteggiamento è stato quello giusto, quello che dobbiamo avere. Noi stiamo parlando esclusivamente dell'episodio negativo del gol, ma noi nell'ultimo tiro in porta nel riscaldamento perdiamo Duninetti, che era nella partita. Mettiamo dentro Peppe che si scalda due minuti, fa l'appello, entra e fa una partita secondo me importantissima, fino a che ce l'ha fatta. Ultimo minuto del primo tempo, si fa male Peppe, infatti era rientrato. Abbiamo perso ancora un altro cambio per infortunio. Giacomarro, perso Giacomarro, benissimo. La squadra è sempre andata oltre, è quello che a me interessa. Fortuni è entrato, Riccardo non era indistinta, c'è stata la possibilità di inserirlo, ha fatto sommentare in maniera importante. Capitano ha fatto tutti quelli che sono entrati, anche i ragazzi, anche i ragazzi. Ciro, Nico, ma tutta la squadra ha avuto un atteggiamento giusto, non sarebbe giusto parlare di uno piuttosto che di un altro. Però ripeto, siamo contenti, godiamo questa partita, ce la godiamo, ma da domani bisogna pensare subito alla prossima, perché questa squadra non può mai abbassare i ritmi. Due domande per me. Dopo la sconfitta con la Scafatese, l'aveva detto in maniera chiara, basta alibi, bisogna assumersi le responsabilità. Oggi in campo la squadra ha messo attributi, attributi, attributi. Abbiamo visto veramente un'isca che ha giocato alla grandissima, ha fatto fronte anche all'espressione. Magari se ci spiega poi i motivi, perché personalmente non lo abbiamo capito, perché poi abbiamo visto l'abito a un certo punto dispensare cartellini gialli un po' a tutti praticamente. Più a noi. Solo a voi, a tutti nel senso che è stato completato, i giocatori dell'isca, infatti, solo a voi, sono stati 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 questi gialli, quindi capite anche perché sono stati dispensati questi cartellini gialli. Sui cartellini sicuramente è stata una partita maschia, ma falli brutti, forse qualche reazione c'è stata, ma io tutte le reazioni che ho visto, forse tranne una nel primo tempo, il resto sono stati tutte avanti loro, però non mi univa noi. Poi i ragazzi sono stati bravi comunque a rimanere lucidi. Su Fabio è stata un'ingenità, è stata un'ingenità, penso sia stata una parola di troppo detta. Non serve a nulla, non serve a giocare, non ha poco senso, però, ripeto, conosco il ragazzo, veniva dal gol, purtroppo è stata un'ingenità, non si deve più fare, ma Fabio, come tutti quanti gli altri, fa parte di questa rosa e fino all'ultimo giorno che farà parte di questa rosa, io li chiedo a tutti quanti in considerazione.